Let's go, bitches! Benvenuti a questo commentary in cui vi parlerò delle motivazioni del perché Black Ops 2 è stato il Call of Duty di maggior successo di tutti i tempi Cosa l'ha reso così interessante? Cosa l'ha reso uno dei migliori Call of Duty di sempre? Perché è stato l'anno d'oro? Cosa è successo? Bene, per prima cosa dobbiamo parlare del fatto che i creatori del gioco, la software house, l'interesse da parte loro nel modificare il gioco e l'importanza per loro delle sport Parliamo subito di David Vonderar, che comunque è il director designer di Treyarch Durante Black Ops 1 lui andò agli eventi dell'MLG perché era molto interessato per cercare di creare qualcosa di importante per Black Ops 2 Ma non per i giocatori, più per chi vedeva l'esport o comunque chi partecipava a questi grandissimi eventi Per questo chiamò persone come uno degli ex pro player, tra l'altro il managing director degli Envias, che è Astro, Mike Ruffail Praticamente si consultò tramite lui per creare qualcosa di veramente grande su Black Ops 2 Come sapete Mike, a.k.a. Astro, lui fu anche uno tra l'altro dei commentatori proprio di Black Ops 2 E non solo, lo troviamo anche nel trailer multiplayer del gioco di Black Ops 2 Oltre a questo, bisogna dire che la Treyarch si interessò veramente a quello che volevano i giocatori O comunque quello che volevano sia i giocatori sia la crowd, cioè la folla, le persone Aggiungendo molte cose che potevano aiutare il gioco ad essere più vicino a quelli che sono giochi come League of Legends, Dota, eccetera eccetera Ma prima di tutto parliamo di altre cose, parliamo del perché Black Ops 2 è stato così bello Allora, il bilanciamento delle classi per prima cosa Per prima cosa bisogna dire che Black Ops 2 non aveva proprio delle armi principali da usare Come sapete c'erano diverse varianti di armi C'era su Black Ops 2 chi usava il FAL, chi l'M8A1, chi l'AN, chi lo Scorpion, chi l'MP7, chi l'MSMC Tra i cecchini c'era il DSR ma anche il ballista, c'era tra i pompali R870 e perfino il PDV Oltre a questo che sono diciamo le armi primarie C'era anche la possibilità di avere armi secondarie veramente buone Come le pistole che non si vedono da anni usare più Penso Call of Duty 4 o comunque MV3 sono stati gli ultimi dove le secondarie venivano usate Come per esempio la Magnum se non vi ricordate, oppure Black Ops 1 a volte Comunque per esempio esisteva la K40 e poi la B23R Queste armi consentivano al giocatore di decidere se giocare con overkill E quindi mettersi magari un cecchino e utilizzare una pistola O utilizzare un cecchino magari e un'arma primaria come secondaria Questo cosa cambia a livello di gioco? Tantissimo perché usare una pistola vuol dire che la pistola deve essere usata solo in determinate situazioni Però mettendo la pistola sia la possibilità magari di mettere due tattiche in più Le granate tattiche intendo O magari di aggiungere che ne so un perk in più o cose del genere Mettere invece utilizzando diciamo overkill o simili Si finiva poi per dover per forza sacrificare determinati perk Proprio per la propria classe, per il proprio bilanciamento Quindi questa è stata una cosa molto interessante Pure perché tutte queste armi All'inizio molte di queste erano sgrave, erano overpowered Parliamo comunque dell'MSMC, del PDV Ma anche tante altre come il Fall eccetera eccetera Poi piano piano sempre di più si sono interessati gli sviluppatori a bilanciare il gioco A renderlo sempre meno basato su uno o due armi Come invece è ora su tutti i code Perché vi ricordo Ghost per esempio si utilizzava solo il Vector Solo l'Mtar magari, il Remington e basta Mettere invece qui c'era una grande variante di armi Che ogni arma aveva i suoi pro e i contro contro le altre Quindi counter e pro Oltre a questo bisogna dire che questa è stata una cosa molto intelligente Perché consentiva di attuare determinate strategie in base all'arma e ai perk E consentiva di fare cose diverse rispetto al Diciamo, come posso dire Se ovviamente un team giocava con tre MSMC, un MSMC, un cecchino Cambiava tutta la tipologia di gioco che uno voleva magari fare in cerchi e distruggi Che aveva uno dei meta più ampi di tutti i Call of Duty Oltre a questo bisogna anche dire che l'utilizzo di granate tattiche eccetera Come l'EMP per esempio diventava cruciale Perché l'EMP oltre a togliere comunque la minimappa Si poteva scautare dove erano gli avversari Quindi dava quel bilanciamento in più al gioco Quella varietà E uno si doveva mettere hardwired Per cercare di non essere visto ovviamente O comunque sgamato dall'EMP O non avere la mappa oscurata Quindi secondo me per queste motivazioni sulle classi eccetera eccetera Lo rendeva uno dei giochi forse migliori sempre Oppure mettere i trofi in posizioni tattiche ragazzi Poi parliamo della seconda cosa che è il map design Allora bisogna dire che il map design della Treyarch Famoso Cioè si sa le mappe della Treyarch sono state le migliori Perché c'è un bilanciamento Il sistema un set buono e un set cattivo in alcune mappe Ok è vero Ma allo stesso tempo consentivano di essere mappe ben bilanciate Ben studiate Non c'erano mai spazi dove uno era al 90% delle volte ucciso Ci si poteva muovere per la mappa C'erano vari oggetti che consentivano di usare delle coperture eccetera eccetera E comunque ogni mappa poteva essere giocata in diversi modi Per esempio Ride la prima il si poteva utilizzare tranquillamente Nel side buono 3 AR per cercare di schiacciare l'avversario Ma poi bisognava switchare Quindi il meta cambiava all'interno del gioco E i giocatori si dovevano adattare a quello che faceva anche il team avversario La terza cosa di cui voglio parlarvi sono le scorestreak Le serie di punti Le serie di punti all'inizio sono state viste malissimo all'interno del competitive Nessuno le voleva, dicevano una cosa da pubblica Non richiedevano skill Mentre invece sono state un fattore che cambiò il meta del gioco Perché questa cosa? Perché le scorestreak sono state veramente utili alla fine del meta Perché comunque uno poteva utilizzare che ne so Un lightning strike per pingare e vedere dove erano gli avversari Comunque gli avversari se sapevano che gli altri erano le streak Potevano mettersi sangue freddo per magari non farsi vedere dal radar Eccetera eccetera Allo stesso modo si poteva usare l'RCXD come si faceva in cerchi e distruggi O forzava le persone magari a non morire in cerchi e distruggi Per cercare di fare le streak O comunque il team avversario di cercare quella determinata persona Per evitare che lui prendesse le streak Quindi diciamo che coinvolgeva di più i giocatori La tattica, il pensare Diciamo che secondo me questo è stato un fattore fondamentale Le scorestreak non l'abbiamo più vista Abbiamo visto diciamo lo specialista in ghost eccetera eccetera Ma non è stato niente di che O ci sono state streak troppo forti o streak troppo scarse in questo caso Oltre a questo parliamo delle ranked Del giocare competitivo Molti giocatori compreso me, compreso comunque quelli famosissimi Si sono concentrati molto sul giocare le ranked Questo perché? Perché rendevano il gioco molto più simile a come League of Legends Che ha le sue ranked, Dota eccetera eccetera Un gioco comunque FPS come code su console Che non aveva mai avuto cose del genere Lo avviciniamo un pochino pure alla tipologia di Halo Molti giocatori si sono interessati per cercare Di portare questa cosa comunque al gruppo dei caso All'io stesso l'ho fatto Perché questo? Perché beh come avete visto Facendo così la gente si interessava Capiva il gioco Giocava con i suoi idoli E comunque giocava tra l'altro alla loro modalità E poteva capire, interpretare E divertirsi assieme alle persone Giocando in qualcosa che è competitivo Non è prendi, facciamoci una partita a cavolo E giochiamo Oltre a questo però voglio parlarvi dell'ultima parte La parte finale Ed è l'interesse degli sviluppatori Sulle armi Sul nerfare le armi Sul sistemarle Come avete visto Molte armi erano veramente forti All'inizio di Brokeeps 2 Ma piano piano sono state patchate E rimodificate Questo perché? Perché l'interesse della software house Non era solo nei DLC Nel vendere DLC Ma era nel creare un'esperienza di gioco Per i giocatori Che li portasse avanti A giocare ancora a Brokeeps 2 Anche dopo Che era finita l'epoca del gioco Perché come sapete Code cambia ogni anno E ci sono riusciti Brokeeps 2 Attualmente ancora uno dei Call of Duty Più giocati Questo perché? Perché si sono veramente interessati Guardate la K40 La K40 era overpowered Assolutamente Ma cosa hanno fatto gli sviluppatori? L'hanno nerfata Ed è sì Buona ora Si può usare Non è fortissima Ma si può usare Stessa cosa il fall Stessa cosa la MSMC Il PDV L'MP7 Che erano fortissimi come SMG C'è stato un supporto continuo Durante tutto il gioco Il cambio degli spawn Gli spawn sono stati fixati E rifatti meglio E c'era proprio l'aiuto Da parte degli sviluppatori Per cercare di creare Una sorta di Come si può dire Di gioco Che piacesse a tutti Ai casual Ai pro A tutti Quindi che coinvolgesse queste persone Molte persone Tra l'altro i propri casual Sono spostati a giocare In ranked Perché si divertivano Perché non era Come posso dirvi Non era come giocare Ne partite Normali di pubblica Prendi Giochi Spari Fai Era bello Perché dovevi crearti La tua classe Avevi il tuo grado Potevi tirarti Da quegli amici Di avere il grado più alto Perché la si Potevi farlo Non è come qua Che non ha Questo valore E tra l'altro Non sono state aggiunte DLC Map Diciamo Nelle partite Competitive Anche se molti Le volevano Molto brutto Da vedere questa cosa Diciamo Delle mappe DLC Nel competitive Perché magari Vengono messe anche Pochi giorni Prima Che il torneo Venga fatto Quindi Questo non piace Molto ai giocatori Perché non c'è Tempo di fare Le statistiche Cioè le statistiche Scusate Le strazze Le strategie E quindi si finisce Per schippare Questa mappa Questa modalità E per poi magari Giocarla a caso E non portare Un'esperienza visiva Bella ai giocatori Questi sono stati Tanti fattori Che hanno fatto Diventare Black Ops 2 Uno dei Call of Duty Più belli E amati di sempre Speriamo che Su Black Ops 3 La Treyarch Impari da questa cosa E beh Cosa posso dirvi Ci vediamo su Black Ops 3 Bitches E spero vi sia piaciuta Questa nuclear Che avete visto In sottofondo Let's go Bitches